Grazie a tutti. Sviluppi nel corso delle ultime ore. Iniziamo quindi questo giro di informazione andando a rivedere i principali titoli per poi passare a tutti gli approfondimenti sugli argomenti chiave dal web. Lo facciamo partendo dal Corriere della Sera e qui il titolo. L'apertura è tutta dedicata alla crisi internazionale con l'Ucraina. Fallisce l'offensiva armata decisa da Kiev. Oggi a Ginevra i colloqui con l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti. In mano ai filo russi lest dell'Ucraina e la Nato si sta mobilitando. Ancora quella nave che spia gli Stati Uniti. Il titolo correlato a questa notizia. E poi l'Italia l'interno con i mini redditi, il bonus di 40 euro, la corsa del governo per trovare le coperture degli sconti IRPE. Ferrenzi che assicura le coperture ci sono tutte. Il pareggio di bilancio rinviato, il caso della lettera all'Unione Europea. Pareggio di bilancio che poi andremo ad approfondire anche sul web perché ci sono i primi numeri che andremo a vedere dal web non appena terminata la lettura dei titoli dai quotidiani. Poi ancora tangenti, il licenziato da Saipem viene reintegrato dal Tribunale. Anche un risarcimento di 1,2 milioni per l'ex direttore Varone. Questo quanto è stato deciso. E ancora al Senato approvata la legge sul voto di scambio, accuse e espulsioni. Si torna a parlare anche del caso dello scambio di embrioni al Pertini di Roma. A caso che tanto ha fatto discutere in questi ultimi giorni, cognomi simili. Ecco il rebus dei gemelli, provette scambiate. Fonti del Ministero confermano la causa dell'errore al Pertini di Roma. Fonti che affermano che è stato commesso questo errore dovuto ai cognomi simili. Questo avrebbe creato il rebus dei genitori biologici dei gemellini. In grembo alla donna che ha subito lo scambio degli embrioni in provetta. Per il momento non è stato ipotizzato alcun reato. E da quanto trapela dal Palazzo di Giustizia di Roma non è ravvisabile alcuna accusa perché esiste in materia un vuoto normativo. Anche su questa notizia ci sono poi ulteriori aggiornamenti delle ultime ore che andremo a vedere anche questi sul web. Ci spostiamo sulla Repubblica per vedere qual era l'apertura in mattinata. In primo piano l'IRPEF. Ecco il bonus. I tagli agli stipendi di toghe e docenti. Si parla di sgravi in busta paga fino ai redditi di 28 mila euro. E poi per le coperture colpita anche la difesa con gli F35 nel Milino e la litte tra Boldrini e Brunetta sul pareggio di bilancio. Già da Repubblica venivano elencati più nel dettaglio tutti gli ambiti che saranno riguardati da questi tagli. Un miliardo dalla sanità, taglio degli stipendi esteso dai dirigenti pubblici, anche ai magistrati, alte gerarchie militari e professori universitari. Confermati i già annunciati 800 milioni di risparmi sull'acquisto di beni e servizi. Mentre si profila una sforbiciata da un miliardo alle agevolazioni per le imprese e un intervento anche sui cacciabombardieri USA F35. Sono queste le poste messe sul tavolo dal governo nelle ultime ore per sbloccare l'operazione bonus in busta paga che sarà barata domani dal Consiglio dei Ministri. Con tutta probabilità la platea investita salirà fino a 28 mila euro. Andando avanti ancora la polemica sul voto di scambio mafioso, approvata la legge C'è Bagarre in aula dei senatori 5 stelle. Poi ancora il codice riconosce i diritti animali. L'ultima rivoluzione francese si fa riferimento anche a Gandhi che l'aveva previsto. Si può giudicare la grandezza di una nazione dal modo in cui vengono trattati gli animali. Era più di mezzo secolo fa, da allora il cambiamento culturale e sociale è avvenuto, almeno negli occhi di tanti padroncini che vezzeggiano cani e gatti come compagni di vita con pari dignità delle persone. Dalla Repubblica sul messaggero e qui in apertura non poteva che esserci questo titolo, quello che riguarda il settore bilancio per il Campidoglio che è completamente nel caos. C'è addirittura l'allarme nella capitale, uno scontro con il sindaco Marino e via l'assessore Morgante. Non mi fanno tagliare spesa e tasse. Così ha dato l'addio appunto la titolare del bilancio. Nella manovra mancano 100 milioni. Renzi si dice preoccupato, non c'è il rigore che era stato chiesto dal governo per il Salva Roma. Sul messaggero anche ritroviamo l'Ucraina con blindati filorussi a est e poi c'è l'allarme della Nato con le difese che vengono rafforzate. Si parla di venti di guerra fredda. Oggi il tanto atteso vertice a Ginevra per vedere quale possa essere la soluzione migliore e ovviamente pacifica. Anche sul messaggero voto di scambio via libera al testo insulti ed espulsione al Senato. Tra urla, cartelli esposti in aula e grillini espulsi a Palazzo Madama è stato approvato il DDL sul voto di scambio. E' stata respinta anche la richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle. E poi ancora gli statali con gli stipendi nel mirino. Una stangata sopra i 60 mila euro. Deficit lettera al governo o dal governo all'Unione Europea pagati. Poi inoltre i debiti della pubblica amministrazione slitta così il pareggio. Stipendi pubblici nel mirino spunta un tetto alle retribuzioni per tutti i dipendenti pubblici. L'ultima versione del decreto che limita i compensi dei dirigenti si configura come una vera e propria stangata che imporrebbe una soglia massima di 60 mila euro allo stipendio della generalità dei dipendenti pubblici. Quindi non soltanto ai dirigenti. La novità dovrebbe scattare dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Quindi verosimilmente già con gli stipendi del prossimo mese. attese anche con il Consiglio dei Ministri di domani misure anti-evasione e tagli alla difesa. E agli F-35 il governo scrive quindi una lettera alla Unione Europea sul deficit. Si sfilano dalla trattativa agli emiri all'Italia e tiad. Salta il matrimonio. Salta a sorpresa. A un passo dalle nozze il vettore di Abu Dhabi si sarebbe tirato indietro scrivendo nero su bianco ai soci italiani che non ci sono né le condizioni tecniche né quelle politiche per poter andare oltre. Ci spostiamo dal messaggero alla stampa. Anche qui in apertura il bonus con il cambiamento delle regole. domani il via del Consiglio dei Ministri. Bruxelles apre al rinvio del pareggio di bilancio chiesto da Padoan. Niente detrazioni IRPEF e taglio agli oneri sociali per aiutare i redditi più bassi. Altra questione che sta facendo discutere molto in questi giorni è quella relativa all'immigrazione con un ennesimo appello di Alfano. Se l'Europa non si muove fa il gioco della Le Pen. La missione Mare Nostrum è a tempo. Un barcone di migranti nella foto proprio quello riportato. Un barcone a Lampedusa. E poi in Sicilia il reportage proposto dalla stampa. a profughi allo sbando scappiamo anche da qui. Vagano per le campagne o nelle piazze. Non capiamo dove siamo finiti. Il dramma dei minorenni devono farsene carico i comuni. Ma purtroppo ai comuni mancano i mezzi. Ed ancora un'altra notizia sempre dal mare. Siamo in Corea del Sud con la nave a picco e i 300 studenti dispersi. Erano in gitta scolastica. Il mistero ancora sulle cause. Rimangono però poche speranze di trovare i sopravvissuti. Queste le principali notizie riportate sulla stampa. E vediamo anche il tempo con i suoi titoli. Ecco chi protegge gli sfascia vetrine. La guerriglia ancora scontri a Roma per evitare di far sgomberare un palazzo. Gli esponenti di PDSL contro i poliziotti. I scarcerati invece i quattro teppisti arrestati sabato. E 6 mila euro al giorno per 320 nomadi. Il grande hotel Rom. Una baracca a 5 stelle. Poi ci sono anche tutti i guai del sindaco Marino con il bilancio. E il pestaggio del 2011 a Monti. In coma per la Movida. 13 anni sono stati dati agli aggressori. E in ultimo sequestrati 400 mila euro. Guerra a colpi bassi per l'eredità di Albertone Alberto Sordi. Queste le principali notizie sui quotidiani in apertura questa mattina. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità. E torniamo subito con tutti gli approfondimenti del caso e gli aggiornamenti dal web. A tra poco. Grazie. Grazie. Grazie.